Un dono ai degenti ricoverati al fine di esprimere vicinanze e alleviare il peso della sofferenza in un momento importante dell'anno. Appuntamento questa mattina all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela con i volontari della pubblica assistenza Procivis. Un'iniziativa sposata tra il comune di Gela e la pubblica assistenza Procivis, quindi dall'amministrazione monale del sintaco messinese e l'assessore d'arma, assieme a tutti i vari componenti della Procivis che quest'anno stanno attenzionando le fasce più deboli che in questo periodo natalizio trascorrono questo momento particolare dell'anno all'interno dei vari nostri comi gelesi. Quello che distingue le cose buone dalle cose non buone è il comportamento e il modo come si fanno. E questo è un bellissimo gesto che sicuramente noi operatori apprezziamo e penso che saranno apprezzati molto di più anche dai pazienti e dai loro familiari. Si cerca di abbracciare un'utenza che nel periodo natalizio non ha possibilità di stare a casa e quindi di alletare in qualche momento la presenza e far sentire la vicinanza anche dell'amministrazione. In modo particolare si avrà attenzione per gli anziani, per i bambini e anche per i disabili. La Procivis domani e dopodomani ripeterà l'iniziativa presso la clinica Santa Barbara Hospital e la casa di ospitalità Aldisio. E sempre questa mattina i rappresentanti della commissione bilancio del Consiglio Comunale hanno portato regali ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Abbiamo voluto portare loro un momento di festa, un momento di leggerezza in questi giorni appunto e dare un momento di Natale anche a loro e abbiamo pensato di portare così dei doni che possano permettere a loro di poter usufruirne in questa sala e con l'augurio che possano trascorrere queste giornate in maniera più serena possibile. Normalmente quando abbiamo necessità di un'attenzione da parte della politica la riceviamo. In questi momenti più che la politica credo che sia la sensibilità della politica che sta dando un segnale veramente importante e poi nel caso specifico sta portando un momento di gioia per questi bambini che congiunturalmente sono qui ma il prima possibile devono tornare a casa a festeggiare con i loro familiari e con i loro amici il Santo Natale. E ieri anche una delegazione della squadra del Gela si è stretta attorno ai bimbi ricoverati. Un sorriso e un gadget per tutti i piccoli tifosi biancazzurri.